Cari amici, cari amiche, ben trovati. Oggi parliamo di politica agropolese. In questi giorni, come sapete, ad Agropoli si susseguono gli incontri politici tra i vari candidati a sindaco. Il forte potere del centrosinistra ormai si è sfasciato creando una sorta di via vai dall'una e dall'altra parte, chi da Adamo Coppola, chi da Roberto Mutalipassi, creando tutto questo una divisione assolutamente larga tra vecchi consiglieri comunali. Al centro invece emergono forze politiche che sono molto equilibrate e che mettono in campo una serie di figure di consiglieri comunali pronti a divulgare nuove idee e avviare un nuovo filone politico. In coda, il centrodestra, come al solito, è fermo lì al palo, indeciso di cosa fare e dove andare. Nell'incertezza totale si prefigura ad Agropoli purtroppo una frammentazione che non farà bene alla città e ancora una volta i cittadini ne pagheranno le conseguenze. Bisogna però, a mio avviso, pensare seriamente al bene comune. È arrivato il momento di pensarci seriamente, lo dico a tutti i politici che stanno scendendo in campo, i vecchi e nuovi politici. Oggi più che mai, in uno scenario mondiale bellicoso e pandemico, dove l'economia ormai è al tappeto e i valori vengono calpestati, non è possibile abbassare la guardia e attendere lo sfascio. Ma c'è bisogno di agire, questa è la mia opinione. Il bene comune deve essere prioritario su tutto. Pensiamo ai malati che nella loro sofferenza non sanno se vedranno il nuovo giorno. Pensiamo alla povera gente che con la loro solitudine nell'affrontare i problemi quotidiani hanno grandi difficoltà. Pensiamo agli anziani che meritano di vivere una terza età degna degli sforzi di una vita intera. Pensiamoci seriamente, pensiamo alle persone poco abili che non vedono rispettati i propri diritti, alle donne vittime di violenza trattate con superficialità, ai bambini, ai giovani sempre più strumentalizzati e annichiliti da false bugie. Insomma, pensiamo al prossimo per costruire un nuovo percorso per la nostra Agropoli.